Mantova, vista da qua, sembra una città molto lagunare, come diceva la Pina, su Venezia. Facciamo un zoom qua. Il lago inferiore, che di fatto è il fiume Mincio, che divide in tre tronconi il fiume Mincio, che forma tre laghi, qua si vede proprio il manto, sotto al di lui. Il secondo lungo lago dei Gonzaga, siamo in centro praticamente. Sì, è nel lungo lago dei Gonzaga qua. Adesso andiamo un attimo però a verificare di persona, la bella vita si chiama sta barca. Questo è un porticciolo quindi, è un porticciolo di lago, con la vita a pugna. La vita a pugna, mi ricorda l'acchiatto alevenese che c'era d'arma. Finiamo in acqua, come Fantozzi adesso qua, quindi lago inferiore di Mantova. E ora rotta per via Pomponazza, oppure l'abbiamo saltata a causa del senso unico. L'abbiamo saltata. Ma che sfiga, poi andremo appositamente in via Pomponazza. Ma se vuoi... Andiamo a prendere un caffè al Palazzo del Tè? Una tisana al Palazzo del Caffè? Dobbiamo cercarlo. Mario, c'è qualcosa? C'è qualcosa di nuovo? Gotto. Allora. E r I Caffè? Grazie a tutti. Un labirinto. Vabbè, ma alla fine si trova l'uscita subito. Troppo facile. Grazie a tutti. Sì, ma mi sembrava una cazzagua più che... Alla fine si trova l'uscita facilmente. Troppo. Alla fine si trova l'uscita. Un onore immensa, siamo in via Pomponazza, in cerca di una torta sbrizolonna da riportare. E questa è tutta via Pomponazza. Grazie. Ci sai quando. E' un po' finita. Questa poletta ci vediamo. Grazie a tutti. Io ero visto i cartelli, ma sembrava che... E invece è questa. Il manco. Il manco. Il manco. L'ultimo che arriva sembra Cobra. Un po' da Coppa Cobra. Sta sul tetto della macchina per vedere se tutti vedono. Il manco è un po' da Coppa. Un po' da Coppa. Un po' da Coppa. Grazie.